Sì, sì, ma non lo so, beh, io non ho ancora capito molto, sinceramente, dei perchi. Non ci credo, Mark, questo è una... è su scale, è su scale. Io devo andare a dormire, beh, no, sì. Oh mio Dio, ci fugga sta... S'ho fatto tre volte di pina. Armi nuove, c'è il peacekeeper che non ho ancora mai trovato. Ok, andiamo. Questo è un titolo stra figlio. Guarda che titolo che ho, se si 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 carica. Non l'avevo mai visto, almeno forse ce l'ho, ma non... Abbastanza figlio, sì, è abbastanza figlio. Ehm, ho un ottimo presentimento. Ehm, beh, un po' di... gesti. Ovviamente ghiaccio, la mia prima mimetica ghiaccio per lanciarazzi. Sì, bene. Ma è importante essere ben accessoriati. Eh, questo non è... Aspetta, ma non mi hanno dato... Un'arma corpo a corpo assicurata. Aspetta. Vabbè, vabbè, dopo, dopo vedrai. Vabbè, io le apro tutte, sai, sinceramente. Ormai, cosa non è veramente... Vai, e mostra quello che sai fare. E non dire che non ti tratto bene. Dai, vediamo proprio le giambarie. Eh, è più bello. Per te solo il meglio. Vabbè, trasgressione per l'RK5, la pistola, non ci sta. Ancora un pacchetto, un'app. E da compensa dell'arma. Pischi... Pischi per vecchio! Ti giuro! Sì! Beh, io non devo dire niente. Non devo dire che voglio il Pischi per... Non devo pensarci. Giochiamo. Quel che è, è... Ed è uscito. Cioè, un po' me lo sentivo. Non devo dire che voglio... Anche... Non devo dire niente.